Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi sarà un video speciale, infatti siamo arrivati a 1000 iscritti sul canale e sono troppo contenta per questo traguardo. E che video farò come speciale 1000 iscritti? Like all you! Vi ho chiesto qualche giorno fa sui social di scrivermi i vostri numeri di telefono in privato in modo tale da potervi chiamare e fare like all you. Inoltre vi ho chiesto anche di scrivermi delle parole a caso che io dovrò utilizzare durante la chiamata. Iniziamo! La cosa brutta dell'I call you è che io non è che posso registrare due volte. Che faccio? Chiamo un'altra volta e dicono no, è venuta male e quindi... Speriamo vada bene. Ecco i numeri di telefono, cartacei perché i big money di YouTube servono sempre. Iniziamo a chiamare la prima vittima. Chiamiamo Martina. La sua parola che ha scelto è stata pizza. Metto il viva voce così si sente. Non risponde. 3. Informazione gratuita. La chiamata è stata trasferita al centro... Ecco perché non voglio fare I call you. Perché alla fine poi succede sempre questo. Chiamiamo la seconda vittima. La sua parola scelta è stata Cornetto. Non è possibile. Ero occupato. Proviamo a chiamare la terza vittima. La sua parola è stata Sentimenti. Speriamo risponda. Metti ansia a fare queste... Pronto? Pronto? Scusi ma lo sai che lei ha urtato i miei sentimenti? Oddio. Io proprio tu? No, non sono io. Pronto? Ci sei ancora? Sì, sempre sei tu. Stai in diretta? In un video, in diretta poi. In un video. Saluta qualcuno se vuoi salutare. Mi ha cugina Dato. Di dove sei? Stai. Stai di Giano, vai. Ah, io sono di Napoli, quindi dai, vicine. Sì. Allora nel prossimo video ci sarai tu. Sei la terza chiamata, devi sapere che uno era occupato e una non ha risposto. Quindi sei la prima persona che ha risposto. Va bene, allora un bacione grande. Ciao. Ciao. La prima vittima è andata. Non sono molto brava a fare gli scherzi telefonici, quindi non verrà molto bene, però vabbè, vi ho chiamato. Chiamiamo la quarta vittima. La parola da utilizzare è limone. Pronto? Pronto, scusi, per caso ha dei limoni fatti in casa? Oh, Anna. Ciao, sei in un video, saluta. Ciao. Vuoi salutare qualcuno, vuoi dire qualcosa? No, 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 vabbè. Di dove sei, di dove sei? Eh, secondo te? Di Napoli? Di Salerno. Salerno, ok, vicinissimi. Eh. Va bene, ti saluto, un bacione. Ok. Ciao. Il bello è che io non so che cosa dire in queste chiamate. Cioè, io vi chiamo, però non ho idea di quello che devo dire, quindi non è molto bella questa cosa. Poi sto pure in ansia per fare queste cose. Andiamo avanti. La parola che devo utilizzare è mucca. Perché non rispondono? Squilla. Quando? Pronto per caso, lei è una mucca in casa? No, sto cercando per caso. Anna. Ciao, saluta. Ciao. Sei in un video. Di video. Che stavi facendo? Eh, vi ho fatto tutto quando ho mai nascosto. Ah, bene. Allora, il prossimo video sarà un gameplay, non è bello. Comunque, di dove sei, di dove sei? Perugia. Perugia. Oh, è lontanissimo. Eh, mi dispiace. Vabbè, ti saluto, un bacione grande. Ciao. Ciao. Il prossimo video sarà un gameplay di Minecraft. Non è bello. La parola che dovrò utilizzare sarà postino. Pronto? Pronto, mi scusi, sono nel postino. È arrivato un pacco per lei. Per caso lo deve ritirare? Ho sbagliato il numero. Oggi è qua. Mi attaccato il telefono in faccia. 3. Informazione gratuita. La chiamata è stata trasferita al centro messaggi. Ma come? Andiamo con la prossima vittima. La parola che dovrò utilizzare sarà coccolosa. Pronto? 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 Che è? Per caso sto parlando con una signorina aurora che è molto coccolosa. Ah, no? Eh, sì. Ciao. Ciao. Saluta le persone in like all you. Sei, stai in un video, saluta le persone in un video. Ciao. Di dove sei? Di dove sei? A Roma. Io sono di Napoli, quindi dai, vicine. Io sono stata a Roma, quindi... Vabbè, non bacione grande. Ciao. Ciao. Perché ogni volta ho i capelli che stanno male durante l'EcoLiu? Perché? Perché? Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando di lasciare un pollice in su e di farmi sapere nei commenti se volete altri Ecoliu e per favore rispondetemi. Mi dispiace per le persone che non hanno potuto rispondere alla chiamata. Ci ho provato. Mi raccomando di seguirmi su tutti i social Facebook, Twitter, Instagram, link in descrizione. Iscrivetevi al canale e niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti